L'unità si fa camminando, collaborando insieme nell'annuncio del Vangelo e nel servizio agli ultimi, certi che la comunione non è il frutto dei nostri sforzi umani o il prodotto costruito da diplomazie ecclesiastiche, ma è un dono che viene dall'alto. Con queste parole Papa Francesco ha salutato i partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. A tutti il pontefice ha ricordato che l'unità non è uniformità e tanto meno assorbimento. L'unità dei cristiani infatti non comporta un ecumenismo in retromarcia e neppure tollera il proselitismo che anzi è un veleno per il cammino ecumenico. L'ecumenismo, ha insistito Papa Bergoglio, è vero quando si è capaci di spostare l'attenzione da se stessi alla parola di Dio, che esige di essere testimoniata nel mondo. Per questo le varie comunità cristiane sono chiamate a non farsi concorrenza, ma a collaborare. L'unità come cammino richiede pazienti e attese, tenacia, fatica e impegno. Non annula i conflitti e non cancella i contrasti, anzi, a volte può esporre al rischio di nuove incomprensioni. L'unità può essere accolta solo da chi decide di mettersi in cammino verso una meta che oggi potrebbe apparire piuttosto lontana. Tuttavia, colui che percorre questa strada è confortato dalla continua esperienza di una comunione gioiosamente intravista, anche se non ancora pienamente raggiunta. Ogni volta che si mette da parte la presunzione, ci si riconosce tutti i bisognosi dell'amore di Dio. Grazie a tutti.